Sono le 17.40 di questo lunedì post voto per le elezioni politiche del 2018, la diretta di Tempo Stretto continua per commentare live i risultati di queste elezioni politiche, per commentare con i protagonisti di queste elezioni politiche i risultati consegnati dalle urne. E siamo qui con Nino Germana, il deputato Nino Germana che è pronto a questo punto per volare a Roma, un'attestazione che ha faticato ad arrivare, c'è stata un po' di attesa e di trepidazione per quelli che sono stati appunto i dati che arrivavano man mano durante la nottata dai seggi elettorali, c'è stata un po' di tensione a un certo punto? Beh un po' sì perché quando abbiamo visto che il 5 Stelle andava così forte in Sicilia c'è stata anche un po' di preoccupazione da parte mia per i collegi plurinominali. Però poi è andata bene, la situazione per quanto riguarda il mio collegio si è stabilizzata intorno alle 6. Ringrazio Tempo Stretto che ci ha accompagnato tutta la nottata superando la maratona di Mentana. Non esageriamo però in effetti nei tempi ci siamo tutti. Ringraziamo l'onorevole Germana. Bene, è andato tutto è bene, quel che finisce è bene. Io sono felice di ritornare a Roma, sono felice di rappresentare la Sicilia, di rappresentare Messina. Lo farò spendendomi come ho sempre fatto e con una grande responsabilità di essere forse l'unico deputato eletto della provincia di Messina per il centrodestra. Proviamo a commentare il voto che riguarda il centrodestra, che riguarda Forza Italia. Intanto abbiamo un'Italia divisa in due perché abbiamo un centro nord che praticamente è stato conquistato dal centrodestra a trazione leghista e invece abbiamo un sud Italia che praticamente è stato travolto dall'ondata 5 Stelle. In questo quadro anche il commissario regionale di Forza Italia ha detto Forza Italia, il centrodestra ha vinto in Sicilia perché ha avuto un 21% che comunque è un'affermazione sembra non aver perso nessuno a queste elezioni. Come è possibile? Il vincitore di queste elezioni è chiaro il centrodestra. Questa è una legge che prima la coalizione, la coalizione di centrodestra è stata prima con un 37% più, mi sembra. È innegabile che il Movimento 5 Stelle sia il primo partito e quindi questo gli va riconosciuto. Ma io credo che a questo punto il Presidente della Repubblica non può non tenere conto della coalizione che ha vinto e quindi dare il mandato esplorativo a Salvini. Il centrodestra non ha vinto, sono in Sicilia, ha vinto in tutta Italia e il risultato di Forza Italia in Sicilia, quasi il 21%, forse poco più del 21% è un risultato che ha addoppiato addirittura, Forza Italia ha addoppiato il risultato di Forza Italia e delle altre regioni d'Italia. Quindi un risultato straordinario. All'indomani delle regionali però che obiettivamente hanno consegnato un ottimo risultato a Forza Italia e al centrodestra, Micci che aveva detto che puntando alle politiche di marzo, quindi a queste politiche a cui stiamo assistendo adesso, si poteva tentare l'unplane del famoso 61-0, invece è un risultato che stavolta si è ribaltato in Sicilia, il cappotto è arrivato dal Movimento 5 Stelle. Ma perché come ha ben detto lei in apertura di questa nostra intervista c'è un'Italia che è divisa in due, un centro nord che è trainato dalla Lega, il centrodestra ha vinto in tutti i collegi uninominali, ma perché al centro nord c'è meno crisi, c'è più buon governo, noi governiamo insieme alla Lega diverse regioni d'Italia, al centro e al sud dove c'è più sofferenza, dove c'è più fame, e o in Sicilia, dove c'è stato più mal governo, come questi ultimi anni di governo Crocetta, purtroppo il 5 Stelle laddove c'è crisi e mal governo attecchisce. Per quanto riguarda le candidature, ci sono stati tanti mal di pancia, per quanto riguardano le candidature, soprattutto nei collegi messinesi, sia all'uninominale che al plurinominale, dalla base, insomma la base non si è sentita forse ascoltata. Oggi, alla luce dei risultati che sono arrivati, qual è la sensazione su questo punto, su questo aspetto? Il risultato ci dice intanto che il 21% Forza Italia c'è ed è forte, dobbiamo ricostruire necessariamente il partito e la base va ascoltata, questo è vero, la base va ascoltata, forse va ascoltata di più, ma se non lo si è fatto, perché Forza Italia e il centrodestra vengono da un periodo di crisi che adesso, insomma, ormai è terminato con la vittoria delle elezioni regionali e quindi aspettiamo le politiche, superato questo benedetto 4 marzo che abbiamo aspettato così a lungo. Io faccio campagna elettorale da più di un anno, non so se domani avrò la, come si dice, la forza, la postparto. Ah ok, il trauma, quel trauma, la depressione. La depressione postparto, io potrei avere la depressione post campagna elettorale, perché dopo un anno di adrenalina di campagna elettorale, però voglio dire, è arrivato il momento per strutturare il partito. Invece, per quanto riguarda Franco Antonio Genovese, c'è stato un disimpegno da parte di Franco Antonio Genovese in questa tornata elettorale, forse anche per il fatto che non c'è stata quella candidatura di Franco Rinaldi che inizialmente sembrava quasi scontata e che comunque sembrava praticamente cosa fatta? No, assolutamente no, perché lo escludo e non ci devono essere questo tipo di polemiche, perché abbiamo girato anche con lui insieme per questa campagna elettorale in lungo e in largo la provincia. Lo abbiamo fatto con Franco Antonio, lo ha fatto Luigi che ha girato con noi spesso in parecchie occasioni e siamo pronti, anzi devo dire, a affrontare a petto in fuori le eminenti elezioni amministrative di Messina. Quindi assolutamente no, Forza Italia c'è, Forza Italia in provincia di Messina, ha lavorato in sinergia e lo faremo ancora di più. Ecco, ultima domanda che riguarda proprio le amministrative che adesso inizia questa nuova campagna elettorale quindi forse la depressione postpartum la possiamo rinviare perché c'è una campagna elettorale che è praticamente iniziata qui a Messina e Forza Italia sta già pensando a come proporsi a questa competizione elettorale che sarà totalmente diversa da quello che abbiamo visto fino ad oggi e soprattutto lo farà cercando delle alleanze oppure cercherà un candidato forte da schierare da solo? Allora, partendo dal fatto che ogni competizione è una competizione a sé, regionali, politiche, le amministrative sono tutt'altra cosa quindi noi siamo convinti di vincere in prima battuta le amministrative con Forza Italia, con un centrodestra che sia allargato alla società civile e a tutti quelli che vogliono dare un contributo fattivo a questa città siamo convinti di vincere in prima battuta Senza andare al ballottaggio quindi? Senza ballottaggio, se troviamo il candidato autorevole è una proposta credibile, quello che si aspetta oggi la città di Messina perché dopo cinque anni di malgoverno e frutto della protesta probabilmente legittima dei messinesi oggi la città si aspetta una buona proposta e io sono convinto che se noi riusciamo a interpretare questo sentimento dei messinesi presentando una buona proposta vinceremo in prima battuta lo dico perché sono convinto che c'è un centrodestra fortissimo che può presentare già alle amministrative almeno dieci liste collegate al sindaco Avete già qualche assonella manica? Considerato che da Forza Italia sono già uscite delle candidature autonome diciamo delle proposte di candidature autonome pensiamo per esempio al consigliere comunale Pippo Trischitta pensiamo per esempio alla presidente del consiglio comunale Emilia Barrile che ha espresso questa sua possibilità a candidarsi sindaco della città insomma c'è un fermento all'interno? Ma io diciamo le autocandidature sono un po' restiva le autocandidature sono sia la Emilia Barrile che oltretutto anche lei ha lavorato moltissimo in questa campagna elettorale che Pippo Trischitta, capogruppo, sono degli esponenti del nostro partito che hanno delle legittime ambizioni però io credo che la candidatura debba nascere da un tavolo di confronto con gli alleati e quindi non soltanto da Forza Italia individuando il candidato migliore e cioè il candidato che riesce a aggregare di più oggi il candidato che vince, il candidato migliore per noi non è Tizio piuttosto che Caio ma è quello che aggrega di più Va bene, allora lasciamo l'onore del deputato non mi piace dire tanto onorevole lasciamo il deputato Nino Germana magari ai suoi non so festeggiamenti cosa farai? Beh guarda ancora sono un po' preso dalla botta come si suol dire diciamo stanotte come avete fatto voi non ho dormito neanch'io abbiamo avuto il risultato finale anche se il trend ormai era quello ci è arrivato intorno alle 14 quindi e poi mi sono catapultato a fare una serie di interviste di telefonate, di amici e sto continuando a fare questo mi piacerebbe un po' staccare il telefono per qualche ora più che altro per analizzare il dato e i risultati grazie a tutti